... Termine della partita, intervista con Clara, sono qua con Tresor Samba. Beh, comunque un'ottima vittoria. È chiaro, il popolo Granata voleva questa vittoria e gliel'avete data. Una grande prestazione. Penso che abbiamo dato tutto. Abbiamo lavorato queste due settimane perché era la nazionale, ma bene, forte e adesso siamo contenti della vittoria. Beh, è chiaro, finora il lavoro è stato molto duro, magari non sempre ha pagato, però è chiaro, ci vuole molte volte anche un po' di pazienza. Sì, certo, perché è difficile da giocare contro una squadra che gioca, che c'è stata buona difensiva, comunque abbiamo la pazienza e dopo abbiamo fatto il risultato. Continuiamo con Matar Dieje, peraltro uno dei fattori di questo incontro. Non è stato facilissimo, ma comunque siete riusciti a portare a casa una gara che è molto importante. Sì, si voleva, cercavamo di fare tutto per vincere, ce l'abbiamo fatto, siamo troppo contenti per questa vittoria. A questo punto direi che anche il pubblico ha apprezzato, è chiaro, il cammino è ancora tanto lungo, c'è veramente ancora tanto lavoro da fare, però sei soddisfatto della prestazione, tu anche a livello personale? Sì, sono soddisfatto e dobbiamo continuare a lavorare bene come stiamo facendo. La strada è lunga, dobbiamo continuare sempre a fare bene, 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 ogni partita, sì. E concludiamo con mister Sandro Chieffo, una vittoria che per il morale fa decisamente bene, chiaramente per lo schiarimento di Coppa Svizzera fa ancora meglio, adesso però testa al campionato che comunque vedrà davanti alcune partite che non saranno tutt'altro facili. Assolutamente, fa bene queste vittorie, fanno benissimo al gruppo, penso che se lo sono meritati perché hanno preparato davvero fortissima durante la settimana, soprattutto anche il lato mentale. penso che darà uno slancio per lo spero, per il campionato, perché là dobbiamo lavorare e dobbiamo cercare a tutti i costi di fare i tre punti. Beh, comunque, tutto sommato il duro lavoro paga, oggi direi che ha pagato, è chiaro. Come abbiamo ripetuto più volte, nel calcio moderno si vuole tutto subito, però è chiaro che le vittorie si costruiscono mattoncino dopo mattoncino, allenamento dopo allenamento, ma anche con prestazioni come queste. Ma noi sapevamo che sarebbe stato un percorso, che serve tempo, squadra nuova, una visione un po' coi giovani e là da oggi a domani non riesci, però penso che si vede, i progressi si vedono, le partite che stiamo giocando, e là bisogna avere pazienza, continuare a lavorare e crederci e non mollare mai. È quello che gli racconto tutti i giorni ai ragazzi, devo dire che lo fanno benissimo, sono molto contento e sono sicuro che arriverà pure la prima vittoria in campionato. Due parole su due giocatori, Ugo Lamy, lo ricordiamo, un terzino, classe 2004, quindi un giovanissimo che comunque sta dimostrando una maturità anche superiore rispetto a quella che è la sua età anagrafica. E poi davanti magari ci vuole ancora un po' di tempo per creare l'alchimia tra Pollero e Tresor Samba. Giusto, Ugo Lamy lo sapevamo che è una giovane promessa, non ha giocato mai con gli adulti, ha fatto solo il giovanile, però si è inserito incredibilmente, sta facendo un gran lavoro, un gran progresso, si vede anche durante la settimana l'atteggiamento che porta in campo, per me e per la sua età è top e lo vedo in futuro diventare molto importante. Ciao! 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 Ciao!